Allora, questo è il Vesuvio. Sopra il Vesuvio hanno costruito un villaggio bellissimo per persone bisognose, persone che hanno bisogno di cure. È il Villaggio della Fratellanza, www.villagiodellafratellanza.it. Il 95% già è stato costruito, sono stati finanziati soldi per costruire questa grande opera, manca solo il 5%. Quindi aiutateci. Io lo so, Napoli è grande di cuore e quindi faccio questo appello ai napoletani e non solo. Aiutateci. www.villagiodellafratellanza.it. Grazie.